Ma che c'è? Il chucho o due luna? Andate! Il giallo Allora, grande giornata oggi, assumeremo il nostro venditore digitale, la nostra giuria sarà composta da Maxi Calzolaio, buongiorno, Cecilio Rodriguez, Lollo Baroc E vi lascio con la selezione del personale che faranno Cecilia Rodriguez, guardate quante persone che ci sono per la loro nuova attività, vi lascio, ciao!